Ragazzi, 30 settembre del 2023, ci siamo fatti un bagno meraviglioso, a dirvelo siamo ancora in acqua. Bagno meraviglioso, acqua fresca, il punto giusto, tanto da essere piacevole. Pochi ma buoni qui in spiaggia, imperterriti. Ancora una volta una giornata meravigliosa, a sancire un mese di settembre che praticamente è stato un prolungamento d'estate ragazzi. Guardate che meraviglia. Io sto a mollo con l'acqua fino al petto orientativamente ed è favoloso. Acqua cristallina. Inutile dirlo. Grazie. Grazie. Grazie.